vuol dire tecnici specializzati, vuol dire una squadra con passione e passione è il filo conduttore che ci unisce tutti quanti la passione per queste macchine eterne, il 70% appunto sono ancora circolanti ed è quello che noi vogliamo da voi, cioè vogliamo far diventare questo punto non soltanto un punto dove faremo restauri, ripristini dove forneremo dei book ai nostri clienti in cui racconteremo la storia della loro auto dal giorno in cui entra in concessionaria al giorno in cui esce completamente restaurata ma vuole diventare un punto di aggregazione vogliamo che i nostri clienti, che i possessori classic vengano qui che abbiano il piacere di condividere le emozioni che le loro auto gli danno faremo delle colazioni dedicate, faremo tantissimi eventi a partire dal 18 aprile dove avremo con il registro 911 e il registro 912 le prime verifiche tecniche dell'anno quindi il centro Porsche Milano Est è pronto e soprattutto è fortemente motivato a raggiungere questo status che Porsche Aghe ci ha appena consegnato quindi chiamo qui Alessio Morini a diritto di questa importante targa che d'oggi in poi testimonierà ai nostri clienti che questa è la casa del classic e questa è casa loro grazie siamo in Italia e per consegnarlo insieme a me io sono Alessio Morini, direttore post vendita di Porsche Italia abbiamo stasera anche l'onore e piacere di avere il direttore classic di tutto il reparto classic di Porsche Aghe Alexander Fabic a cui cedo subito il microfono per il suo saluto a cui cedo subito